E' un segnale importantissimo. La Pasqua fa volare il turismo. Saranno circa 12 milioni gli italiani in viaggio per queste festività. Il 95% resterà nel nostro paese e le mete preferite saranno il mare, a seguire le città d'arte e la montagna. E' quanto emerge dai dati presentati oggi da Federalberghi che evidenziano come il settore sia in forte ripresa. Questi numeri sono una dichiarazione d'amore per l'Italia, afferma il ministro del turismo Daniela Santanchè, che aggiunge che l'obiettivo resta crescere tutto l'anno.